Buongiorno Deido, Digital Eclipse è una software house, uno studio, che si dedica alla preservazione e alla riproposizione al pubblico, in un formato accattivante, di vecchi videogiochi, di classici del mondo 8-bit, 16-bit, 32-bit, insomma, di epoca anni 80-90, o anche prima, in un formato che è anche interattivo. Cioè propone una sorta di documentari che però si possono giocare, cioè sono effettivamente dei giochi per PlayStation, per Xbox, per PC, in cui però c'è tutto un corredo di documentazioni, di video, di immagini, insomma, di fatti storici che vanno a accompagnare un videogiocatore nella storia di un brand o di un prodotto. L'anno scorso era stato Atari 50, quindi una riproposizione di una specie di museo interattivo della storia di Atari, dove si potevano provare cronologicamente, o anche no, dipende da quale uno si sente di fare, i vari giochi creati da Atari, insomma, dell'epoca Atari, corredati da tutta una serie di informazioni contestuali. Ebbene, un paio di giorni fa invece è stato il turno della riproposizione sotto forma di questo documentario interattivo di Karateka, un prodotto ovviamente importantissimo nella storia dei videogiochi, ma non solo, perché poi Karateka è stato il primo successo commerciale di Jordan Mekner, e Jordan Mekner è il creatore di Prince of Persia. Quindi dopo Karateka arrivò Prince of Persia, che ha una certa importanza anche nella cultura popolare, non solo dei videogiochi. E quindi un'opera di questo tipo, che è quella di Digital Eclipse, ci serve proprio per preservare la memoria di Karateka, e non solo di Karateka, in realtà ci sono anche degli altri piccoli giochini che Jordan Mekner ha creato prima di arrivare a Karateka. Cioè c'è tutto un percorso di contestualizzazione storica, anzi, per chi sta guardando in video vi faccio anche vedere delle immagini. Vedete un'immagine di Karateka, un'immagine del menu del gioco, che vi dà proprio l'idea di come ci si può muovere nel tempo cronologicamente per andare a provare varie versioni del gioco. C'è anche una versione poi rimasterizzata per fruirlo in una versione un pochino più moderna. E quello che volevo dire è proprio sull'importanza del preservare questi prodotti digitali, questi software. Perché diamo per scontato che il software, essendo un prodotto digitale ed essendo stato caricato su qualche device, magari su internet, in qualche modo rimarrà per sempre. E non è così. Non è così perché, intanto perché il servizio su cui carichiamo un artefatto digitale potrebbe sparire o potrebbe cancellare quell'artefatto per qualunque ragione. Abbiamo visto qualche giorno fa che Twitter, per esempio, per un bug forse o per una cosa un pochino più consapevole, cancellava alcuni vecchi tweet con link a immagini o insomma documenti multimediali. E questa cosa può succedere. Anche i tweet sono parte della storia di internet. Potrebbe esserci del contenuto che si vuole preservare. Con i videogiochi la cosa è ancora più complessa perché naturalmente c'è tutto dietro una questione dei diritti e quindi le software house che hanno creato i videogiochi, un discorso che abbiamo già fatto anche quest'estate, spesso vuole provare a risfruttarli commercialmente. Quindi non li rende disponibili per i musei, banalmente, perché ne perderebbe la possibilità di monetizzare. E invece cercare di preservare questa memoria è importante non solo nei videogiochi ma in tutto il software. Cioè qualunque programma, qualunque pezzo di codice si iscriva ha una sua importanza culturale e varrebbe la pena di sostenerla. È venuto in mente anche quindi di ricordare che esiste l'iniziativa Software Heritage, peraltro creata dall'italianissimo, che è questa formula che faccio mia, Stefano Zacchiroli, che appunto è una fondazione che si va a, mira proprio a preservare il codice, di qualunque codice, di qualunque software liberamente disponibile, nel formato sorgente originale, quindi per conservare per sempre nella storia tutta la produzione di codice dell'umanità. E quindi è una iniziativa che vale la pena segnalare, conoscere e magari supportare, perché alla fine il codice è anche parte fondamentale della nostra storia ed è bene che sia preservato e non sia mai perso. E ora direi che partiamo con la puntata di oggi. Allora, giovedì 31 agosto, oggi, come ho detto, voglio parlare di codice, praticamente una puntata monotematica. No, parliamo di varie cose, però tutte incentrate attorno al codice. E allora, ieri è stato il giorno di un annuncio importante per il mondo JavaScript front-end, perché è stato annunciato Astro 3.0, che è questa nuova major version di un framework che sta crescendo in popolarità, che porta con sé un po' di belle novità che vale la pena di andare a conoscere. Per chi non sapesse cos'è Astro, vi invito a recuperare intanto uno dei vecchissimi buongiornissimi in cui ne parlavo dopo che era uscito la versione 1.0 di Astro. In pratica è un framework JavaScript che è incentrato sul server-side rendering o sullo static rendering, che introduce il concetto di islands, cioè in pratica degli elementi della pagina che sono isolati, peraltro è possibile farli anche in altri framework diversi da Astro, come React, eccetera, oppure dei Web Components. Innanzitutto l'annuncio si apre con la rivendicazione di essere il primo major web framework a supportare le View Transition API. E qui vorrei spiegare che cosa sono le View Transition API. In pratica, come dice il nome, e vado sulla documentazione di MDN, come dice il nome, è una Web API che è stata realizzata da Google per Chromium e Chrome e che attualmente è supportata da tutti i browser basati su Chromium, ma non da Firefox e Safari, che non hanno dato indicazioni su quando eventualmente la supporteranno. È una Candidate Recommendation W3C, quindi se vi ricordate i livelli delle Proposal W3C, una Candidate Recommendation non è uno standard ufficiale del W3C, ma è una proposta che viene presa in serie considerazione e sottoposta a review da un certo numero di membri, che poi rimane in questo stato per un certo periodo di tempo, per qualche mese, insomma, in questo stato di review, per ricevere feedback e poi, per ricevere feedback, commenti, insomma, e poi passare eventualmente al livello successivo. Ma in pratica quindi, che cos'è? È una API che gestisce e espone delle funzioni in CSS e dei metodi JavaScript per creare transizioni e animazioni per gli elementi di una pagina, usando le proprietà supportate dal browser, oppure che permette di creare degli effetti custom per passare appunto tra i vari stati degli elementi. Vedete su MDN alcuni esempi del codice che si può usare per creare queste transizioni, queste transizioni degli stati degli elementi. Quindi, senza dover scrivere una caterva di CSS, una caterva di JavaScript, con questa API si può definire, ad esempio, la nuova posizione di un elemento, animare questa transizione e impedire all'utente di interagire con l'elemento fin tanto che la transizione non è completa. Quindi trovate su MDN tutte le specifiche e tutta l'API. Quindi, questa feature ora è disponibile su Astro e fornisce proprio un componente che si chiama ViewTransitions da aggiungere allo head delle pagine, al tag head, e poi si possono controllare gli altri elementi della pagina con varie proprietà, le transizioni appunto dei singoli elementi. Quindi, grazie ad Astro, queste diventano ora disponibili per tutti i browser, in realtà, quindi chi volesse provarle può con Astro averle disponibili su tutti i browser, quindi non solo quelli che supportano nativamente la ViewTransition API e quindi, se vedete anche i filmati video in questo momento, le web app che ne fanno uso hanno un aspetto molto accattivante, sembrano quasi applicazioni native desktop, invece è tutto JavaScript. Peraltro è JavaScript server-side rendered come da concept di Astro, quindi molto leggero e addirittura si fa riferimento poi al, si punta allo zero JavaScript anche per queste transizioni. Dunque, poi abbiamo un 30% in più sulle performance di rendering della pagina, e naturalmente le performance sono una di quelle feature su cui Astro punta tantissimo, e poi abbiamo la Image Optimization che ora è stable. E questo è molto interessante, in pratica è un componente image che si occupa di ottimizzare le immagini convertendole in WebP e poi aggiungendo, per esempio, gli attributi height e width per impedire il community layout shift che è ovviamente una metrica fondamentale nei core web vitals. Quindi, si richiama il componente image, gli si dà il suo SRC con l'immagine che può essere anche remota, e Astro poi fa il lavoro di ottimizzazione server-side usando Sharp, che è una libreria node per l'ottimizzazione delle immagini. Peraltro, integra nativamente il servizio Image Optimization di Vercel, e qui c'è da rimandare anche alla news di qualche giorno fa, eccola qua, in cui appunto si annuncia che Vercel è ora Official Hosting Partner di Astro, il che vuol dire che Astro è integrato nativamente nei servizi Vercel come Edge Middleware, e insomma un altro tassello nella espansione di Vercel nel mondo dei framework JavaScript, da ricordare questo fatto, e infatti poi si fa riferimento anche sempre alla versione 3.0 di Astro, alle novità su SSR in serverless, quindi ad esempio c'è il code splitting per ciascuna rotta, e poi c'è appunto Edge Middleware, e poi ci sono anche dei moduli di customizzazione per hosting provider, che quindi possono dire ad Astro su quale hosting si sta girando per attivare feature specifiche, naturalmente si fa l'esempio di Vercel. Poi, Hot Module Reloading con il Fast Refresh di React, quindi aiuta lo sviluppo dei componenti aggiornando live gli elementi in pagina quando si cambia codice senza un reload dell'intera pagina, e poi ottimizzazione della build con la minificazione dell'HTML e il CSS in line. Quindi Astro 3.0 è disponibile, potrebbe essere un buon momento per provarlo o pensare ad usarlo magari per un prossimo progetto. Se state faticando con lo sviluppo JavaScript in questo periodo, se usate framework che non vi piacciono, insomma, se il mondo front-end vi sembra difficile e faticoso, ricordate sempre per aspera ad Astro. E allora, ieri avevo accennato alla fine del supporto a Protractor in Angular, non dicendo per chi non lo sapesse che Protractor è, o dovrei dire era, una suite per il testing end-to-end. Esistono soluzioni moderne e molto più piacevoli da usare, tra queste c'è Cypress, ormai un mio cavallo di battaglia. L'altro giorno è uscita proprio la versione 13 di Cypress. Dunque, qui la feature più importante annunciata nel blog è questa test replay che riguarda appunto la suite Cypress Cloud, che è un servizio a pagamento offerto da Cypress.io. Quindi, con test replay, in pratica, quando un test fallisce in CI, invece di guardare semplicemente lo screenshot, gli screenshot o il video del test fallito, l'intero test viene registrato su Cypress Cloud e si può quindi ripercorrere step by step l'intero test guardando la console o lo stato dell'applicazione durante tutta l'esecuzione per vedere esattamente cosa è fallito e in che modo. Quindi, in pratica, è uno snapshot dell'applicazione al momento dell'esecuzione del test che poi potete far girare e saltare da uno step all'altro, tornare indietro. Insomma, fornisce un'esperienza di debugging piuttosto importante, è chiaramente molto meglio che avere il solo video che comunque è già un bel aiuto ma qui si alza parecchio il livello. Per questo ci sono delle modifiche proprio al video recording che adesso viene di default settato a false. Rimane comunque naturalmente l'afficio o si tratta solo di configurarla manualmente. Ci sono poi tutti altri piccoli cambiamenti all'API di Cypress. Vi invito quindi a guardare il changelog per informarvi. Sponsorizzo sicuramente Cypress come suite per i test end-to-end quindi datele insomma una possibilità se non l'avete mai provata. E in chiusura di questa puntata tutta dedicata al coding su IEEE Spectrum è uscita l'annuale classifica dei linguaggi di programmazione quindi Top Programming Languages 2023 classifica stilata sulla base di varie metriche di popolarità e nella classifica di quest'anno rimane in testa e anzi consolida il suo primato in testa classifica rullo di tamburi Python che anche come trend si classifica al primo posto rimane al primo posto come crescita di popolarità e ovviamente il traino è data dalle AI e dal Machine Learning quindi anche sul lungo periodo possiamo stare tranquilli che la posizione di Python non è a rischio anche perché come dice il post spesso Python è usato come linguaggio per far imparare la programmazione ai bambini quindi grandi speranze per il futuro invece nel ranking Jobs al primo posto c'è SQL che è un linguaggio che ha una grande popolarità oggi negli annunci di lavoro diciamo non come primo linguaggio ma come competenza di supporto ecco conoscere SQL vi farà trovare lavoro molto più in fretta se devo un'occhiata un po' alle altre posizioni in secondo al secondo posto di questo ranking di popolarità c'è Java che quindi continua rimane saldo tra i primi linguaggi di sempre e sotto Java abbiamo C++ e C quindi se vi immaginavate che il mondo web fosse il principale mondo web front-end o front-end back-end in JavaScript PHP e questi linguaggi fosse il dominatore del mercato del lavoro della programmazione non è così JavaScript è al quinto posto dopo C++ e C e dopo Java scritto abbiamo C Sharp SQL appunto SQL e poi Go TypeScript eccetera e quindi se vi interessa un po' sapere tutta la classifica e andate a dare un po' un'occhiata quali sono i trending e fare un confronto con le vostre previsioni andate a vedere Top Programming Languages 2023 su IE Spectrum e vedete se la percezione che avete voi del mercato è coerente con i ranking di questa rivista chiaramente è un po' americacentrica ma insomma sono trend che poi influenzano tutto il mondo e quindi direi grazie di aver seguito questa puntata del Buongiornissimo che credo che influenzerà tutto il mondo ovviamente quindi tutta dedicata al coding molto bravo molto bravo a volte il coding lo ignoro un po' invece oggi solo coding solo programmazione è bello quindi ci sentiamo alla prossima puntata grazie per avermi seguito e ciao grazie a tutti